buongiorno amici buongiorno amiche oggi un unboxing di tutto rispetto abbiamo questo display multifunzione che permette di una volta inserito nella vostra auto otterrete un android auto o carplay in modalità wireless vedete già dalla scatola si capisce che parliamo di uno schermo molto grande quasi 9 pollici ips io l'ho visto già acceso è un ottimo ips con i neri molto vividi vedete qui si capisce già l'interfaccia carplay qui l'interfaccia android auto e qui la possibilità di chiamare tramite android auto vedete il logo carplay android auto e qui e la scatola poi vediamo cosa cosa contiene la scatola la scatola contiene un caricatore con un cavo molto lungo vedete questo va inserito nel display dopo ve lo farò vedere questo va inserito nell'accendisigari va bene sia da 12 che da 24 la cosa importante che ha un pulsante con cui potete accendere e spegnere il l'unità quindi non c'è un pulsante l'unità per accendere e spegnere ma utilizzerete questo e a mio parere molto molto comodo qui qui c'è anche una piccola lucina quindi quindi questo qui va attaccato nell'unità poi cosa c'è nella scatola abbiamo questo per attaccarlo vedete questo è l'uscita audio se avete bisogno di un'uscita jack questo è uno sdoppiatore vedete uno sdoppiatore con anche due prese usb quindi una volta che voi nella vostra auto utilizzerete questo qua così avrete comunque un altro spazio libero e in più aggiungerete due prese usb quindi da una che ne occupava ne otterrete un'altra libera e due prese usb quindi articolo molto utile questa qui è la retrocamera vedete che si attacca che si attacca sempre lì nell'unità poi vi farò vedere dove con un cavo molto lungo che permette di portarla dietro e questo appunto è il braccio con cui lo potete collegare il braccio adesivo con cui lo potete collegare dietro al al display adesso vi farò vedere anche anche quello e infine abbiamo un manuale di istruzioni fatto molto bene il manuale importante perché praticamente lui non ha un audio suo all'interno di questa unità non c'è una non c'è non ci sono delle casse ma usa esclusivamente le casse della macchina e queste le può utilizzare o attraverso una connessione bluetooth o attraverso la quella fm se avete una radio di tipo fm quindi se nella vostra auto avete una vecchia radio di tipo fm lo collegherete alle casse da auto attraverso la fm se ne avete una con il bluetooth lui se collegherà al bluetooth ma la vedete è possibile inserire una chiavetta usb come ho fatto io oppure espandere la la memoria con una micro sd questo è il sensore di luminosità queste non sono le casse ma è solamente una dissipazione di calore qui sempre dissipazioni di calore qui vedete abbiamo l'uscita per la questa è il power e poi abbiamo l'uscita audio e quella per la retrocamera come vi dicevo è molto grande io l'ho già visto acceso è un ips ma veramente fatto bene con una buona luminosità e con dei buoni neri questo è solo un unboxing poi lo vedremo lo vedremo acceso e come e come funziona